Elisa whispers ASMR e quindi adesso procediamo prima di tutto a struccarti per struccarti utilizzerò questa acqua micelare tutto in uno della casnie che è molto buona ne basta davvero poca anche perchè vedo che hai un trucco leggero ok 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 ancora un po' ok perfetto adesso ho intenzione di detergere il tuo viso va bene? ok quindi per farlo utilizzerò questo olio ok ok questo olio è fondamentale da utilizzare almeno due volte a settimana dopo che ti sei struttata è fondamentata tutti i nostri prodotti sono vendibili sul nostro sito internet ok ok no non c'è bisogno di risciacquo perchè questo olio si assorbi sul tuo viso e non c'è bisogno non c'è bisogno di risciacquo di risciacquo ok ecco fatto ok adesso vi andrò a farvi un leggero scrub sulla pelle per eliminare i punti neri ok ok sì tutti i nostri prodotti sono naturali e vegani non c'è bisogno di risciacquo ok anche qui ne basta davvero poco ok ok vado ok ok non bisogna grattare troppo altrimenti si rischia di fare l'effetto opposto ok perfetto adesso lascio agire lo scrub e intanto procedo a farti le sopracciglia perchè ho letto perché ho letto che ti interessava ok quindi ok comunque hanno già una buona forma le tue sopracciglia quindi ok 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 ecco qua ti fa male ok 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 le sopracciglia o se fortunati o non lo si è perché c'è chi nasce col monociglio e chi nasce già con le sopracciglia perfettamente allineate siccome dicevo tu sei molto fortunato scusami ma qui c'è un peletto che non se ne va ok perfetto secondo che prendo un asciugamano ecco qua ho trovato per rimuovere lo scrubs sì si è noti del rossore sulle sopracciglia comunque è normale non ti preoccupare fra mezz'oretta andrà via ok ecco fatto perfetto adesso sai che cosa ti faccio provare? ti faccio provare c'è appena arrivato l'olio di ricino puro te ne metto un po' sulle ciglia e sulle sopracciglia e poi te lo do in omaggio prova a metterlo tutti i giorni per circa due settimane e poi fammi sapere il risultato sì perché l'olio di ricino aiuta ad allungare la crescita dei capelli dei sopracciglia delle ciglia ok perfetto ok oddio non riesco d'aprire ok 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 ecco fatto non c'è bisogno di metterne troppo aspetta che si sta colando un po' qua ok perfetto ok procedo al penultimo step ovvero l'idratazione delle labbra per farlo utilizzo questo balsamo barriera riparatore senza profumo ma è molto molto buono tanto il profumo arriverà con l'ultimo con l'ultimo trattamento che ti farò tanto ok fai così ok perfetto perfetto come ultima applicazione la mia cosa preferita di sempre che uso ovunque sui capelli sul viso sul corpo che è l'olio di cocco biologico l'olio di cocco te lo consiglio per qualsiasi diciamo problema della pelle o dei capelli perché nutre i capelli e aiuta ad ammorbidire la pelle moltissimo quindi adesso te lo metterò sulla pelle per asciugarci ci metterà diciamo con questo caldo un'oretta però mi raccomando fallo assorbire bene e vedrai i risultati anche questo una volta a settimana sarebbe da mettere lo puoi trovare nei supermercati tranquillamente che nel reparto dei alimentari ti consiglio di prenderlo in barattoli come questi e non nei barattoli quelli alti dove non riesci a mettere dentro le mani perché durante l'inverno l'olio di cocco si solidifica e quindi si riesce a prendere solo se si riesce a mettere dentro la mano e poi a scaldarlo tra i palmi altrimenti si incastra sul fondo ok buonissimo anche qui ne basta poco ne basta poco ok 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 voilà abbiamo finito spero che il trattamento sia stato di tuo gradimento e che ti sia rilassato e spero di vederti nuovamente nel nostro centro benessere ciao